Io questa volta ho imparato a Fovidio come sa da fare, perché l'ho fatto sempre, ma non fa shh, perché io prima di prendere l'artista voglio prendere un pochettino di Reunition, allora lui lo conoscete, allora lei fa sempre video così, ora ha imparato finalmente, ma non è che mi ha già imparato, sto provando, ma avrei sempre si imbarato il tuo conto, diamoci un bacio, un bacio, e ce lo sia, la zizocci, tutto quello che fa, lo fa bene, dai, diciamoci la verità, Annarella, lei è l'amministratore, l'editore, di radio studio M, e mette pure un pezzetto sciarpone, fa pure un rim, poi ci sta, domenico, boom boom, voi lo vedete, e è un po' che Massimo trovi si è cascato, è lui, è domenico, poi, vai, filmo, Armando, voi lo conoscete Armando? ebbene si te lo faccio vedere vicino no la cava da rendere conto pure che è curto il video no le ha mesiissimo per conto poi poi c'è la rossa guardate questo caccia di ciappaggio a me oh l'anno l'ha ciappato aveva fatto il contro video non siamo insieme a questo punto tutta la radio festeggio a vedere un bacio a tutti intanto salvo quindi ci sarà video e contro video un po' di spazio abbiamo anche il pubblico questo è il pubblico ragazzi questa radio è come il disco di Amedeo Reni senza permesso un bacio